Eccoci, eccoci, leggevo che la pay tv sta prendendo spettatori, ragazzi i prezzi aumentano in maniera incredibile da un anno all'altro, il disservizio è sempre evidente, oltretutto sono stati mandati a casa tanti colleghi che senza la loro presenza evidentemente non possono contribuire al servizio che evidentemente ha perso e quindi che causa il proprio mal, pianga se stessi. Adesso c'è qualcosa davvero che non va ed è evidente, lo si vede anche dai numeri. Vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto, di lasciare un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella numerosissimi per partecipare alla nostra community, è ovviamente tutto gratuito, qui sotto c'è anche il link in descrizione del mio canale personale, un canale breaking news dove più tardi ci ritroveremo sicuramente, quindi mi raccomando, iscrivetevi, c'è sempre il podcast di Van Basten che vi aspetta, mi raccomando. Allora ragazzi, mi sono segnato un po' di novità, eccole qui, è un video che ritengo importante. Intanto, prima una curiosità che poi dobbiamo ragionarci su a voce alta come ci piace fare, che per il futuro anche magari del club, di un cambio di proprietà del club, non so se sia positiva o negativa. Potrebbe essere positiva come negativa, non mi sono ancora fatto un'idea. Intanto registriamo come gli investimenti del mondo arabo, del calcio arabo, gli acquisti sono sempre in diminuzione, sembra un po' che sia finita la pacchia, no? Cosimene è rimasto lì, Dybala è rimasto lì, tanti sono rimasti lì, ma la notizia di oggi che mi sorprende un po' è che forse era prevedibile, ma in tempi così stretti no, e quali sono le conseguenze? Il grande flop, leggiamo oggi su Repubblica del Calcio nel deserto, ora i sauditi chiedono aiuto in Europa. Hanno organizzato la Saudi Pro League, il campionato più ricco in Arabia, una serie di incontri anche in Italia per spingere imprenditori e fondi ad acquistare i club sauditi. Il campionato in mano al Fondo Sovrano non funziona nonostante le spese ingenti dell'ultimo anno, ricave dichiarati per poco più di 440 milioni di euro, spese non precisate, audience bassa e stadi vuoti. Quindi là è una bolla, sta andando tutto male, vengono in Europa a dire anche in Italia investite su quel calcio. La cosa che mi pone riflessioni sul fatto che magari ci sia un ritorno di fiamma del mondo arabo sul mine appena finirà questa maledetta indagine che è di ferma e stantia, questa notizia è positiva o negativa? Cioè il fatto che il loro calcio là non funziona può spingere questa cosa a investire nel calcio europeo, quindi di nuovo quello italiano? Oppure magari rinunciare al mondo calcio vedendo che là non funziona? Non lo so, non lo so. Quale secondo voi io ritengo che potrebbe non essere così una brutta notizia? Cioè tornano a investire magari in Europa consapevoli che là il calcio non è cosa, non funziona e non si può esportare il grande calcio là anche se compri grandi campioni. Ditemi la vostra perché davvero è un'idea che sto maturando così in presa diretta, magari con un po' di ottimismo. Poi proseguendo nel video va detto che in Arabia noi non siamo riusciti a cedere nessuno e oggi abbiamo ancora sul groppone, perché di groppone si parla, Orighi e Balloturè. C'è tempo fino al 13 settembre quando chiuderà il mercato in Turchia per sperare che i due possano accasarsi lì. Lì ci sono soldi e quindi ci sono soldi e magari non tanta competenza, magari possono prendere davvero Balloturè ma soprattutto Orighi che comunque è ancora un nome per il suo passato ormai lontano al Liverpool. Speriamo tanto che non restino qui a fare un anno, beati loro, lautamente pagati, a fare nulla. Speriamo che si ricordino la loro vocazione da calciatori, anche se di vocazione non si può parlare in questo caso, altrimenti sono costi che ti rimangono lì. Poi per Balloturè l'ultimo anno, per Orighi no. Orighi poi ti rimane anche il prossimo anno, con il fatto che se quest'anno non gioca, il prossimo anno nessuno lo va a prendere comunque, quindi rischi di avere un Orighi sempre lì, finché non gli scade il contratto, va fatto un quadriennale e il prossimo quindi sarà ancora. Questo è il terzo anno, ci sarà un altro anno Orighi. Davvero operazione incredibile purtroppo. Mentre, una curiosità, il nostro vecchio faro, lo scorso anno, Pioli dice non compratevi nessuno ma non ci detti Mikrunic, sarà il fulcro lì in mezzo, ha durato sei mesi, poi l'abbiamo mandato via, quasi regalato, pensate che dalla Turchia va la Stella Rossa e quindi continua, dal Fenerbahce alla Stella Rossa, continua a fare un percorso di chiusura e di calo evidente della sua carriera. Per noi lo scorso anno era un fulcro. Poi, siccome Krunic è un giocatore che di Milano ci poteva stare come riserva, non come titolare. Nel nano dello Scudetto, lui è una riserva che poi trova anche spazio. Le ultime partite le facciamo con Krunic. E lui, secondo me, non era un grande giocatore, ma uno che si applicava, che ha risentito anche lui di questa stagione, la scorsa, nata su un binario morto già in partenza. Voltando pagina, nel video di questa mattina in cui ero un po' giù, ero parecchio giù, non che adesso sia su, vi dicevo, ragazzi, il tema stadio è importantissimo, è fondamentale. Forse la partita più importante non la giochiamo su un tema stadio, perché una volta completato l'iter burocratico, avuti i permessi, tu puoi già annoverare in qualche modo il progetto stadio con la spunta verde tra i tuoi asset. E quindi tu, cardinale, puoi rivendere il club facendo un'ottima plusvalenza e senza motivo alcuno per rimanere ancora. Quella sarà la liberazione. Io non oso immaginare ogni tanto, però ci penso, all'entusiasmo che ci sarebbe, che ci sarà quando mi metterò magari qui su questo divano, in questa location o altrove e dirò, ragazzi, prendete la bottiglia migliore o unica che avete magari nel frigo, stappate, perché oggi è un grande giorno, ci liberiamo di cardinale, di redbird, di furlani e compagnia. quel giorno prima o poi arriverà. Si dice che l'attesa del piacere è sa stessa piacere, non in questo caso. Cioè ogni giorno è pesante, secondo me. Però arriverà anche quel momento lì e chissà quel video. Ogni tanto me lo sogno, lo confesso. E mi regala qualche bella emozione. Chissà quel video lì. Però per arrivarci abbiamo capito che o cardinale non restituisce i soldi ad agosto dell'anno prossimo, quindi Milan torna ad Elliot, ma non che passiamo di mano cambiando sicuramente in positivo, passiamo dalla padella alla braccia, oppure, più probabile, cardinale rifinanzia, va avanti, si tiene il Milan, restituisce il debito a Elliot e poi vende appena ha il percorso stadio a livello burocratico non realizzato, completato. Ci sono novità importanti. Innanzitutto vi leggo San Donato, l'assessore Mistretta, il Gran Premio di Monza, l'esempio di come lo stadio del Milan possa essere una grande opportunità per la nostra città. A San Donato spingono. Spingono consapevole delle opportunità. Nel caso in cui avesse esito positivo l'accordo di programma, come amministrazione inizieremo a pensare a dei progetti tesi proprio a valorizzare questi aspetti. Quindi il discorso del tessuto sociale, culturale e commerciale della nostra città vedendo l'esempio molto positivo dell'autodromo del Gran Premio di Monza nel tessuto Brianzolo. E io abito qui vicino e ovviamente è una cosa che crea movimento. Dall'altra parte, dall'altra parte, quello che emerge nell'ultima ora è che cos'è? Che intanto c'è allo studio, ci sono allo studio maggiori volumetrie esterne con il restaling a San Siro. Cioè si cerca di ottenere maggiore spazio fuori per avere più possibilità di, diciamo così, ricavare da negozi, ristoranti, museo, store, eccetera, eccetera. Aumentare lo spazio disponibile fuori. C'è una novità importante. Però ecco, ieri Sala ha detto presto avremo un incontro con Milano e Inter, era previsto per metà settembre, quindi potrebbe essere la prossima settimana, al più tardi quella successiva. La cosa che mi ha lasciato un po' perplesso e che trovo assurda è che dopo mesi, mesi, che dico mesi, anni, anni, Sala dica però il prezzo non c'è, il prezzo non sarà frutto di una trattativa, nessuno ci vuole guadagnare, dovrà stabilire l'agenzia delle entrate. Quindi siamo qui ancora a capire poi quale sarà la valutazione, se sarà un prezzo ritenuto adatto oppure no. Quindi si sta discutendo di un progetto, in questo caso il prezzo dell'acquisizione a titolo definitivo o dell'uso per 90 anni, senza sapere il prezzo. Però a me sembra una cosa strana ma sicuramente qualcuno di voi mi smentirà. La novità che filtra da casa Milan è invece molto importante. quello che filtra non volutamente ma che è uscito da qualcuno è che in questo preciso momento storico siamo di fronte a un momento cruciale della vicenda e quindi cruciale per il nostro futuro in cui il Milan diciamo così si trova a Sesto San Giovanni come cartina per chi conosce un po' la Lombardia devi mettere o la freccia destra verso San Siro o la freccia sinistra verso San Donato. Ebbene, in questo momento il Milan sembra intenzionato a mettere la freccia destra verso San Siro. Redbird valuta seriamente la ricostruzione di San Siro la riqualificazione darebbe la possibilità di dividere le spese con l'Inter cosa che già era uscita con la telefonata di Cardinale a Zhang ed era stato un clamoroso autogol a livello comunicativo perché poi la notizia era uscita. Pensate che San Donato costerebbe un miliardo duecento milioni di euro e ristrutturare San Siro costerebbe duecento milioni di euro per club quindi per un club per cui i conti sono la cosa più importante che ci sia anche di logiche sportive che invece dovrebbero essere un club normale le cose più importanti capite bene che la differenza di un miliardo di euro fa tutta la differenza di questo mondo. Quindi dopo era uscita una tizia a recintare la zona San Donato e la bonifica abbiamo comprato il terreno eccetera 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 in questo momento Redbird sta per mettere la freccia verso San Siro dopo mesi mesi e mesi evidentemente di favole basate su nulla perché se tu dici se io dico voglio comprare la Ferrari voglio comprare la Ferrari ma poi non ho i soldi per comprarla ho perso in giro il mio interlocutore è chiaro che Redbird che deve restituire 700 milioni a Elliot farebbe una fatica pazzesca a trovare un miliardo e due con investitori ovviamente per fare anche lo stadio a San Donato quindi la storia del sarà lo stadio più bello del mondo quante volte ci hanno detto sarà un impianto super moderno il più bello del mondo il progetto è questo la casa del Milan non divideremo la casa con gli altri San Siro non ci interessa si ascoltiamo San Donato San Donato San Donato sta da solo si va verso San Siro per me nel pratico non è neanche una brutta notizia è sicuramente una notizia importante restare a San Siro a me non dispiacerebbe come non dispiacerebbe andare a San Donato perché saremmo da soli qui per me è difficile scegliere per tanti invece la scelta è facile c'è chi è pro San Siro c'è chi è pro San Donato la notizia importante però per me è che finalmente dopo anni di partita a scacchi di cose che filtrano strategiche siamo pronti a prendere la decisione piaccia oppure no ma siamo pronti ad andare su questo progetto di ristrutturazione di San Siro io lo dico da mesi che per me si finisce lì perché conosco i miei polli in tanti però esaltavano anche qui nei commenti vostri Redbird Cardinale perché ragazzi però lo stadio lo stadio San Donato dov'è rischia di essere un progetto che si polverezza così a me non dispiacerebbe l'importante che si faccia in fretta e forse adesso arriviamo finalmente a prendere una strada unica e definitiva lo capiremo credo a breve non dico settimana prossima secondo me sarà necessario anche ora qualche incontro però probabilmente in un mesetto capiremo tutto questo rimane il fatto che hai io sono la persona che vuole vincere più di tutti al mondo non esiste persona che vuole vincere più di me vogliamo vincere ma con continuità non una volta solo e basta le tante favole che sono state raccontate al popolo rosso nero si aggiunge anche quella dello stadio di proprietà il più bello del mondo un impiatto modernissimo e alla fine vai e dividi con l'inter perché costa meno è sempre un discorso puramente economico l'importante è che si stemino tutto in tempi brevi e che si veda la via di uscita poi sul discorso di questa evoluzione araba ditemi voi se è una buona notizia come spero o una cattiva notizia come non temo ma è anche possibile commentate lasciate un like iscrivetevi qui e ditemi guidando gli occhi per un attimo immaginando San Siro ristrutturato se vi piace l'idea anche se la dividiamo con gli altri però un'idea di rimanere a casa nostra con un impianto più moderno e da vivere magari 7 su 7 anche a 24 a me non dispiace anche se la casa del Milan soltanto nostra sarebbe stata bellissima sicuramente commentate scatenatevi e lasciate un like iscrivetevi qui un saluto grazie a tutti